Rieccoci in studio, la nostra maratona continua, continuiamo a parlare di occupazione femminile, lo facciamo attraverso lo sguardo dei direttori del personale e lo facciamo grazie al nostro ospite che vi presento e che è Isabella Covili Fagioli, presidente IDP, Associazione Italiana Direttori del Personale. Buonasera e benvenuta. Buonasera, buonasera a lei, grazie dell'invito. Ecco, grazie a lei per essere con noi e per regalarci un po' qual è il vostro sguardo rispetto a questa crisi che lo sappiamo, lo stiamo vedendo, sta avendo un impatto particolare soprattutto rispetto all'occupazione femminile. Abbiamo visto, grazie appunto agli ultimi dati, che rispetto all'Europa, insomma, il numero di occupate rispetto alla media europea è calato drasticamente con questa crisi. Quindi parliamo di un problema che riguarda proprio e soprattutto l'Italia e che questa crisi ha messo ancora più in luce. Per cui, presidente, le chiedo, insomma, qual è il vostro osservatorio rispetto a questo punto? Ma la domanda non è proprio di quelle che fa partire col botto. Se pensiamo che nel 2012 Anna Maria Tarantola aveva dichiarato che raggiungendo gli obiettivi di Lisbona, cioè portando l'occupazione delle donne dal 46 al 60 per cento, avremmo guadagnato 7 punti di PIL, capisce che non siamo andati molto avanti. La pandemia ci ha messo il suo, ma sicuramente non eravamo messi benissimo. Quest'anno poi, se consideriamo che rispetto al resto dell'Europa noi abbiamo perso il doppio dei posti di lavoro che riguardano le donne tra aprile e settembre dell'anno scorso, se vogliamo misurare un dato, piuttosto che rispetto all'Europa che su 100 posti di lavoro persi ne vede 46 delle donne e noi ne vediamo 56 delle donne. Quindi davvero non siamo messi bene. Non siamo messi bene neanche se consideriamo anche magari i ruoli un po' più alti, però rispetto alla dirigenza le donne dirigenti sono il 18 per cento e il CEO ancora meno, il 3 per cento. Cosa vuol dire? Che davvero dobbiamo ancora lavorare tanto e come direttore né personale ne siamo consci, perché poi anche il gap salariale, che potrebbe essere percentualmente importante durante la vita lavorativa, sto parlando del 5, 6 per cento, 7 per cento e poi va incidere sulla pensione. Quindi le donne rimangono ancora una volta in difficoltà. La crisi economica che stiamo vivendo, inutile che lo diciamo, porterà alla perdita davvero di tanti posti di lavoro e quindi ci sarà un aumento della povertà. E come sempre queste situazioni vanno a colpire le fasce deboli e le donne sono considerate in questo caso una fascia debole perché c'è beffa nella beffa, se vogliamo, no? Perché perdono il posto di lavoro perché hanno lavori precari, perché hanno lavori che si perdono più facilmente o perché sono nei servizi o perché sono contratti a termine o perché sono verso, vogliamo dire, lavori autonomi, per non dire, possiamo anche dirlo, molte volte lavorano anche in nero, è chiaro che è più facile perdere un posto di lavoro. Quelle che hanno continuato a lavorare sicuramente sono state privilegiate, però hanno avuto i loro bei problemi anche loro, perché hanno dovuto conciliare tutto il lavoro della famiglia, che vuol dire figli, ma vuol dire anche anziani, vuol dire tutta quella che è la cura, no? Lo smart working ha aiutato tanto, ci mancherebbe. Molte donne sono state assolutamente, come dire, grate di questo modo di lavorare, ma non possiamo poi far finta che questo non comporti, vogliamo dire, uno sradicamento dall'azienda, quindi uscire da quella che è la vita in azienda che conta per quello che sono i giochi di potere, se vogliamo, per quello che potrebbe essere una carriera, per quello che potrebbe essere il futuro. Le donne già prima avevano tentato di portare un loro modo di vedere il potere, che non è quello degli uomini. Le donne non vogliono il potere degli uomini, molte donne si sono tenute lontane dal potere, proprio perché non erano, come dire, interessate al potere che gli uomini esercitavano, quindi sono rimaste lontane, hanno cercato di entrare in certi ruoli, hanno dimostrato che si poteva fare, si poteva esprimere un potere anche diverso, un potere più di ascolto, un potere più di attenzione anche nei confronti delle altre donne. È chiaro che c'è un problema di cultura, se vogliamo, di politica, che è preesistente, ma quando le situazioni sono situazioni di crisi si aggrava un po' tutto. Non voglio davvero ripetermi. Cosa diciamo noi come direttori del personale? O come persone che comunque hanno al centro la motivazione delle persone, che noi dobbiamo monitorare, dobbiamo guardare, mettere in atto tutte quelle che sono le possibilità e le attenzioni perché si valuti il risultato del lavoro, si valuti il merito, non si valuti chi l'ha fatto. Certo, certo. Sì, diciamo che è una crisi che ha coinvolto in particolare il mondo femminile, anche perché non c'è ancora chiara una netta distinzione tra quello che è lo smart working e il fatto di occuparsi della famiglia, no? Nel senso, andrebbe comunque regolamentato questo strumento meglio rispetto a quanto fatto con la legge del 2017. Noi parliamo di smart working, però dello smart working ce n'è stato poco. C'è stato molto telelavoro, c'è stato molto home working, c'è stata la possibilità di svolgere la propria attività in modo più comodo, a casa, magari senza i tempi di viaggio, magari senza i rischi che in itinere che potevano esserci, magari senza il tempo perso per questo. Però da lì a parlare di smart working io credo che, insomma, la distinzione sia netta. Cosa significa? Significa che occorre tutelare e valorizzare il lavoro delle donne. Noi sappiamo che poi le donne hanno ancora molto il carico di tutta la cura e ha per esempio il diritto alla disconnessione che adesso è venuto perché c'è il rischio anche di esagerare, parlando di smart working, c'è il rischio di dire beh vabbè continuo lo faccio, non c'è più un orario, d'altronde noi abbiamo già abbattuto le barriere di tempo e di spazio sul lavoro. Vuol dire che oggi possiamo davvero crearcelo, però questo vuole anche dire lavorare sui risultati. È un'altra organizzazione, è un'altra leadership, è un altro modo di considerare l'azienda. E in questo voglio dire che mi piacerebbe vedere le donne che decidono, le donne che su questa organizzazione incidono perché possono pensare meglio e fare meglio per un'organizzazione più utile. Non solo le donne, ha tutto il risultato aziendale con una motivazione, una soddisfazione diversa. Non voglio parlare del solito soffitto di cristallo, cioè voglio dire ci sono dei discorsi che sono talmente noti che non vale la pena che a quest'ora ci mettiamo a, voglio dire, a discuterne. Poi ci sono anche, sappiamo che l'Italia è al settantesimo posto per quanto riguarda la valutazione del gender gap, più o meno se non è settantesimo forse ne ha guadagnato persone, ma siamo lì, non siamo tra i paesi più virtuosi. Ma ci sono delle aziende però che hanno delle politiche molto severe da questo punto di vista. Ci sono delle aziende virtuosissime da questo punto di vista, ma purtroppo non sono tutte così perché altrimenti i dati in generale non sarebbero questi. E anche voi quindi come state sensibilizzando come associazione i direttori del personale in questo senso? Noi stiamo facendo di tutto perché non esista il problema del genere. Andiamo anche oltre, noi stiamo cercando che siano valorizzate le diversità al di là del genere. Però questo è il giorno della donna e quindi ci concentriamo su questo. Io le faccio un esempio. Faccio l'esempio di IDP. Non parlo di cose di cui ho sentito parlare. Io sono stata per anni l'unico presidente di gruppo donna. Sono 16 gruppi regionali di IDP. Io sono stata per anni l'unico presidente di gruppo donna. Poi sono stata per anni vicepresidente. Poi ormai sono sette anni che sono presidente nazionale. Di più di chiunque altro perché la pandemia ha portato anche a non andare a termine ma allungare ancora i tempi. Da quando io ho assunto la responsabilità di questa associazione ho visto sei, sette presidenti donna. Cosa significa? Non è che sono state fatte delle regole, delle pressioni perché è diventato indifferente che fosse un uomo o una donna. Cioè quello che contava era la voglia di mettersi in gioco, la possibilità di fare un buon lavoro, capacità di crescere. L'associazione è cresciuta tanto in questi ultimi anni. Quindi vuol dire che il lavoro che è stato fatto da uomini e donne è stato buono. Ma non è stato dato per scontato che dovesse essere per forza un uomo a guidare un gruppo regionale piuttosto che l'associazione nazionale. Io sono stata la prima donna presidente nazionale di AIDP e i risultati non sta a me giudicarli. Ma al di là di questo il risultato che mi rende più orgogliosa è il fatto che altre donne sono state in posizioni e sono oggi in posizioni importanti facendo un lavoro incredibile. Questo è un dato di fatto. Cosa facciamo poi perché le persone che sono in azienda nel ruolo di direttore del personale abbia sempre sotto controllo? Sappiamo che ci sono delle leggi che agevolano l'assunzione di donne, sappiamo che c'è la possibilità, cerchiamo di mettere in campo tutto, ma soprattutto cerchiamo di cambiare la cultura. Per cambiare la cultura bisogna andare sul risultato e sul merito. Il risultato e il merito non hanno sesso. Anche se, devo dire, anche qui farei un po' di distingo perché la Thatcher, che non era proprio la donna tenera che conosciamo, diceva che per le donne non è importante. Allora, alle donne non interessa essere importanti, ti interessa fare cose importanti. E questo io credo che sia già un fatto di genere. Cioè, credo che questo la dica lunga. E quindi bisogna lavorare sui risultati, bisogna andare a cercare di premiare quelli. e non limitarsi agli incentivi, alle assunzioni, che per fortuna che ci sono, per l'amor di Dio, alla imprenditorialità femminile, che per fortuna che c'è, che però ricorda tanto il microcredito, sembrano sempre contentini. No, bisogna andare oltre. Quello che io sto pensando in questo periodo, diciamo così, credo che sarebbe ora, invece di andare sempre sulle punizioni, sarebbe ora di premiare. E allora, invece di dare oltre, diciamo oltre, non invece, oltre a dare gli incentivi alle assunzioni femminili, si potrebbe considerare di dare delle agevolazioni a quelle aziende che hanno una serie di indici, una serie di situazioni all'interno. Questo è quello che mi piacerebbe, su cui mi piacerebbe ragionare, magari anche proporre. dare queste, cioè per esempio, quante donne ha in certe posizioni, quanto le donne si fermano in una categoria prima di passare all'altra? Che differenza c'è con gli uomini? Quanto tempo aspetta una donna per la dirigenza? Oppure no? Quanto è valutato? Cioè, una serie di indici da studiare e da cercare di valutare per poter davvero premiare e incentivare quelle aziende che invece presentano una mappa, mi passi questo termine improprio, una mappa virtuosa. Allora sì che forse riusciamo a cambiare la cultura, no? Certo, un cambio culturale quindi. Non importa quanto guadagni portando dentro, ma valutiamo invece il durante, valutiamo la vita delle donne in azienda. È facile o non è facile? In quell'azienda è facile per le donne crescere oppure no? È facile fare anche della job rotation, andare anche su altri ragionamenti. Poi non sono solo quelli gli ambiti in cui forse bisogna ragionare per cambiare la cultura, sono davvero tanti. Pensiamo alle donne presenti in certi tavoli, pensiamo alle donne presenti in certi panel, pensiamo davvero, ho letto e spero di avere una informazione esatta che sia il Financial Times che Bloomberg non permettono ai loro giornalisti, ai loro manager di partecipare a panel o dove non sia presente almeno una donna. Allora, cominciamo a dare dei paletti, come ci sono aziende che non accettano che un headhunter presenti una rosa di candidati se non c'è nella rosa almeno una donna. Oggi leggevo per esempio Chila Didi, Rai Salini, No Umen, No Panel. Cioè, cominciamo, degli uomini voglio dire che cercano davvero dei modi nuovi per non stendersi su quella che è l'abitudine, io credo che ci siano. Sì, assolutamente, anche perché insomma in questo periodo ormai da diverso tempo si parla dei vari parametri ISG e insomma c'è un gran parlare anche di diversity, poi però andando a vedere nei fatti sono ancora poche le realtà che le portano effettivamente avanti e basta guardare insomma le posizioni apicali e i dati che ha citato lei in apertura, questo sicuramente. Questo è un dato di fatto, dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo lavorare tanto e soprattutto le donne non devono darsi per vinte, anzi, sono molto di più di persone che necessitano di qualche sostegno perché altrimenti non ce la fanno. No, no, vogliono poter decidere, vogliono poter decidere in modo consapevole dando all'organizzazione una fisionomia che sia diversa a quella che è sempre stata. Una fisionomia, se vogliamo, più accogliente e anche più disinteressata da alcuni parametri come quelli di genere, per esempio. Certo. Bene, grazie Presidente per il suo interessante contributo. Grazie a lei, le auguro buona serata, continuate questa maratona. Noi continuiamo ad andare avanti e grazie di nuovo per aver partecipato, Isabella Covilli-Faggioli, Presidente IDP. Grazie, grazie a lei, buona serata. Di nuovo, qualche minuto di pubblicità e rientriamo qui con la nostra maratona. Grazie a lei, buona serata. Grazie a lei.